ciao amici auguri di buona pasqua a tutti voi amanti della vita sana e naturale questa mattina quando mi sono svegliata stavo pensando che siccome si dice buona pasqua di resurrezione al di là del senso cristiano di questo concetto cosa possiamo fare risorgere noi della community trendy e sana ma ovvio la motivazione di mantenere alta la salute di stare bene facendoci del bene e come si fa ogni giorno quando scegliamo cosa mangiare o che stile di vita seguire ricordate tutto quello che facciamo ha un effetto sulla nostra salute se non subito a breve termine sicuramente nel tempo un'amica nuova sul canale guardando i miei primi video del 2009 che si chiamavano le pillole di naturopatia mi ha scritto chiedendomi se esistono davvero queste pillole che fanno ottenere questi benefici o se bisogna seguire i consigli che do nei video la risposta voi che mi seguite da tempo la sapete di sicuro ma ne approfitto per rispondere alla nostra nuova amica e per ricordarlo a tutti non esiste una pillola che garantisce la salute una volta per tutte per questo bisogna restare motivati ogni giorno non è semplice lo so richiede impegno e anche sforzo nel quotidiano bisogna fare risorgere la motivazione ogni giorno ma niente paura quando si ottengono i risultati vi assicuro che di tutto quell'impegno ne valsa davvero la pena e lo confermano anche tutti gli amici trendy e sani che scrivono nei commenti che potete leggere tutti è per questo che io pubblico video ogni giorno per mantenerci motivati e a questo serve il canale a trovare risposte naturali a quasi tutti i problemi di salute notizie e ricette sugli alimenti più sani per evitare quelle schifezze che l'industria ci vuole imporre e anche nel mio sito trovate risorse per tutti con i miei libri e i miei ebook per essere guidati e accompagnati in questo bellissimo percorso che stiamo facendo insieme grazie a tutti di esserci di darmi il vostro sostegno e amicizia condividendo i vostri commenti e le vostre esperienze che ormai sono un dialogo quotidiano tra di noi a me piace tantissimo vi auguro una splendida pasqua e se ancora non sapete cosa preparare oggi a pranzo a cena c'è il menù cruelty free con le ricette veg di serena grande chef trascorrete una bellissima giornata trendy e sana oggi più che mai e noi ci vediamo domani qui sul canale naturalmente e tanti auguri anche da lui ovviamente lo squaletto e ci sono anch'io con squaletto auguri di buona pasqua gli auguri a voi e le uova a noi un bacione a tutti anzi tre ciao le auguri a voi e le uova a noi ciao